Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Carlotta e ci troviamo sempre qui a IFA 2017 all'interno di tantissimi padiglioni disponibili nella fiera. Abbiamo appena assistito alla dimostrazione dei nuovissimi telefoni di Cat Phone, però prima di mostrarveli nel dettaglio, sigla! Questi sono i tre telefoni che si trovano qui all'interno di IFA e sono posizionati in base alla loro potenza. Questo è l'S31, è un telefono che come tutti i telefoni Cat hanno una resa e un grip eccellente, sono proprio creati apposta per non rompersi praticamente mai e poterli portare anche in condizioni più estreme. Se siete amanti degli sport estremi questi sono i telefoni per voi. Questo è dotato di una batteria da 4 mAh fatta apposta per essere assolutamente super resistente. Ha l'ultima versione di Android e come potete vedere in effetti è molto reattivo e non ha nessunissimo di problemi e anche la fotocamera, come potete vedere, è ottima. Questo è il modello successivo, l'S41. Rispetto al precedente questo è dotato di invece una batteria di 5 mAh. Come potete vedere ha una cover differente perché ha un grip migliore. Potete vedere anche tutte le varie connettività e anche questo è dotato di un'ultima versione di Android, un'eccellente fotocamera. Ha una ricarica della batteria estremamente più veloce. Questo è l'S60, è il top di gamma e l'ultimo modello uscito. Rispetto alle versioni precedenti ha una fotocamera termica, come potete vedere qua. Ciò permette di vedere al voglio senza nessun problema. Ha una ricarica eccellente, potete vedere che ha una cover differente, sempre però in un discorso di grip. Ovviamente tutti e tre i telefoni sono waterproof, quindi proprio perché possono essere portati in qualsiasi condizione. Questa è in urte una nuova feature assolutamente interessante. Infatti potremo caricare il telefono senza nessun tipo di problema. E anzi, oltre a poter caricare il telefono senza nessun problema, potremo decidere noi quanta percentuale di ricarica vorremmo effettuare. Potremo infatti inserire il 50% e il telefono si caricherà fino al 50%, senza nessun tipo di problema. Fatta apposta per portarselo ovunque, quindi se siete amanti degli sport estremi, questi sono i telefoni per voi. Perché sono assolutamente super resistenti. Per questo momento è tutto, continuate a seguirci per avere tutte le news qui direttamente da l'IFA 2017. Ciao!